Parziale, senza nessuna questione, non c'era l'unità. Ministro, come mai si trovano molte resistenze sulla riforma del titolo quinto? La riforma del titolo quinto sta marciando in Parlamento. Dentro questa riforma c'è bisogno di un riequilibrio di competenze tra Stato e Regioni. Nel frattempo, in attesa che la riforma costituzionale segue il suo percorso, come noto secondo l'articolo 138 è un percorso piuttosto di garanzia e quindi lungo, io vorrei che si anticipasse un'intesa tra Stato e Regioni, la nuova Eni serve esattamente a costruire un luogo in cui Regioni e Stato insieme definiscono le nuove regole della promozione. Basta con questa scena, ormai incomprensibile, soprattutto in una stagione di taglia alla spesa, per cui le singole Regioni si fanno delle fiere internazionali, promozione da sole, in un mondo in cui già l'Italia è piccola, diciamo delle singole Regioni.